Sarà una scuola sicura e moderna la nuova primaria di Borgo Ammozzano. Proprio in questi giorni sono iniziati i lavori di ristrutturazione della vecchia scuola elementare collocata nel centro del paese, un'opera importante per tutta la comunità che andrà a riqualificare tutta l'area che ospita il plesso scolastico. L'intervento prevede una demolizione di una parte dell'edificio e la restante verrà adeguata sismicamente, nonché verrà fatto un intervento di riqualificazione sia impiantistica che energetica in modo tale da ottenere un edificio sicuro ma allo stesso tempo anche all'avanguardia dal punto di vista energetico e quindi con un forte risparmio per l'amministrazione. Per cui una scuola moderna e sicura. I lavori assegnati all'impresa locale Cappelli di Corsagna sono iniziati con la chiusura e la delimitazione del cantiere e procederanno poi con tutte le varie fasi della lavorazione. I tempi di esecuzione saranno fatti in varie fasi, quindi il primo step sarà costituito dalle demolizioni, poi la parte strutturale e arrivare alle parti di finitura, che andrà nell'autunno prossimo 2019. Anche se il capitolato dei lavori, che impegna una cifra di 1.600.000 euro, prevede più tempo per l'esecuzione delle opere, è obiettivo sia dell'impresa che dell'amministrazione comunale inaugurare l'anno scolastico 2019-2020 nella nuova struttura. Nel frattempo i giovani studenti trascorreranno l'anno scolastico nella sede provvisoria Ex-ITIS, accanto alle scuole medie. Anche questo intervento rientra a pieno titolo nella linea delle amministrazioni comunali borghigiane di questi anni, mettere le scuole sempre al primo posto. Si tratta di uno dei progetti più importanti per tutta la nostra comunità, 1.600.000 euro per mettere a norma antisismica la nostra scuola elementare e per riqualificarla completamente. È un messaggio importante che vogliamo dare, la scuola al centro, al primo posto nei nostri paesi, nel nostro territorio. Con questi sono 4 milioni di euro che abbiamo investito in questi anni sulla scuola perché crediamo che la scuola sia il futuro.